Non bastano tre ore di grande volley alla Capani per portare a casa tre punti importanti contro un Polistena mai d'uomo che approfitta di un vistoso calo psicologico dei ragazzi di Patrone Erbino nel quarto parziale. In vantaggio 2-7-1, 24-18 accusano un blackout inspiegabile che permette di realizzare al Polistena un break di 8 punti che di fatto gli consegna il set. Il tie break è pressoché una formalità per Defina, Fusaro e compagni che dilagano 15-10. Naturalmente nulla è compromesso nella corsa ai play-off ma coach Crispino e Trudu dovranno lavorare in settimana per scongiurare questi bui improvvisi di cui soffre il team castrovillarese, anche perché il Polistena era assolutamente alla portata di Bianco e compagni. La nota positiva è che comincia a vedersi il pubblico al palafilpo quando c'è la Capani. Grazie.